Dopo i bei piazzamenti delle scorse settimane conditi con la ciliegina sulla torta della vittoria alla Gran Fondo di Alassio, il ciclista pugliese Romolo Gentile non sembra avere intenzione di fermarsi e mette in bacheca un altro bel successo, stavolta nella sua regione d'origine. Nella Gran Fondo di Canosa, infatti, l'atleta della Velosprint di Bitonto ha colto un altro bel successo sbaragliando la querrita concorrenza. Canosa è stata la ciliegina sulla torta, è venuta dopo Alassio, inaspettata, è venuta anche Canosa. La gamba ormai è entrata, incominciava a girare, le sensazioni ormai stiamo quasi entrando nel picco della forma e effettivamente Canosa è stata una replica forse un po' più voluta di Alassio. Abbiamo attaccato da lontano, prima in solitaria, poi dopo qualche chilometro con Matteo Di Lella che comunque è un grandissimo passista, anche se effettivamente questo è un percorso meno adatto alle mie caratteristiche ci siamo aiutati a vicenda e abbiamo messo a termine una fuga di 90 chilometri. Mentre negli occhi ha ancora la gioia per la vittoria, la terza edizione della Gran Fondo internazionale di Alassio in Liguria il Bitontino è già pronto alla sua prossima sfida, forse la più importante. La 9 Colli di Cesenatico, fucina di talenti da cui è uscito il più celebre di tutti, Marco Pantani. Siamo andati a sfidare i grandi, i gran fondisti del palcoscenico italiano e nazionale e siamo andati lì e abbiamo tentato la fuga. Siamo andati, abbiamo attaccato e effettivamente è andata bene. Era prevedibile che comunque l'arrivo era in salita e effettivamente è andata bene. Non me l'aspettavo neanche io perché comunque il livello era molto molto alto. Abbiamo rischiato e comunque abbiamo fatto metà gara in fuga e l'arrivo in salita e siamo arrivati così a mani alzati. Grazie.